Erotismo Il mio è un libro ultratradizionalista e cattolico, in base su Hegel e Aristotile, un libro che considera la filosofia una cellula resistenziale rispetto allo sradicamento individualistico, panconsumismo, dell'erotismo e quindi mira a una sorta di produzione del campo liscio, dello scorrimento delle merci erotiche, deregulation, sessuale e sentimentale, deregulation, sessuale e sentimentale, deregulation, Don Giovanni che è nuca e purgaro, deregulation, sessuale e sentimentale, deregulation, sessuale e sentimentale, deregulation, sessuale e sentimentale, sessuale e sentimentale, deregulation. Grazie a tutti